Si è conclusa con due arresti, un fermo e due denunce. L'operazione condotta dalla polizia di Lanciano contro i furti nelle abitazioni. Le indagini sono iniziate il 19 giugno scorso. Alcuni abitanti di Mozzagrogna avevano segnalato la presenza di un'auto che a luci spente si aggirava tra le abitazioni. Subito intervenuta la volante ha intercettato l'auto con a bordo degli uomini che poco prima avevano forzato la porta finestra di un'abitazione senza però riuscire a rubare nulla. Dopo un breve inseguimento hanno abbandonato l'auto fuggendo a piedi per le campagne. E proprio dall'auto la polizia attraverso indagini e pedinamenti è riuscita a risalire al Cosovaro. L'uomo 28 anni domiciliato a Montesilvano è stato bloccato insieme ad altre tre persone al casello dell'A14 di Pescara Nord a bordo di un'auto rubata a Monte Prandone in provincia di Ascoli Piceno. E' accusato di tentato furto in abitazione e concorso e furto di auto. Insieme a lui è stato arrestato un connazionale di 31 anni per resistenza e violenza pubblico ufficiale. Denunciati invece un serbo 42enne senza permesso di soggiorno e un 52enne di Ortona italiano per favoreggiamento. In estate, ha detto il dirigente della polizia di Lanciano, Katia Basilico, i furti aumentano a macchia di leopardo. Per questo il questore ha voluto rafforzare i controlli serali e notturni sul territorio. Erano arrivate diverse chiamate al 113 nelle quali veniva segnalato un'autovettura che girava con i fari spenti, quindi una cosa molto sospetta. L'arrivo della volante è stata tempestiva e proprio grazie a queste segnalazioni che molto spesso e anche da ultimo era successo l'arresto del rapinatore e proprio grazie alla collaborazione dei cittadini che un tempestivo intervento può evitare la commissione di reati. Grazie.